Un saluto dal Tg della mobilità da domani e sino a venerdì 19 novembre si svolgeranno lavori di pavimentazione della sede tramviaria in via Ottaviano. Per lasciare spazio agli interventi previsti nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17 saranno modificati i percorsi delle linee bus 19 Nav 32, 590 e 913, temporaneamente disattivate due fermate. E sulla ferrovia Roma Nord per lavori di manutenzione i treni in direzione Flaminio non effettuano la fermata alla stazione Acqua Acetosa. In alternativa si può scendere a Euclide e prendere il treno in direzione Viterbo per una fermata. E' tutto, appuntamento alla prossima edizione.